Dylan Dogg, 121, finché morte non vi separi. Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Retro Dylan, rubrica tanto richiesta anche questo mese, di cui mi scuso se anche questo mese non è uscita il 15, giorno dedicato al Retro Dylan, ma esce oggi, ultimo giorno del mese, ultimo giorno dell'anno, ma il 15 chiaramente bisognava, volevo, dare spazio a Spider-Man The Way Home, che è stato un po' il grosso evento dell'anno, di cui ho anche approfittato per citarlo nella mia copertina, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente è ovvio che questo canale tira di più Dylan Dogg e non mi sono dimenticato di voi assolutamente, parliamo insieme oggi di uno dei numeri, uno dei miei numeri preferiti, ovvero il 121. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che recensiscono Dylan Dogg, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto, di questo 121, di questo video, e iscrivetemi anche nell'anno nuovo se vorrete vedere qualche nuova collaborazione con altri youtuber che parlano di Dylan Dogg, ma perché no anche di altre cose. Dylan Dogg 121, un numero che a mani basse è uno dei miei numeri preferiti, un numero che per l'occasione uscì appunto per il decennale di Dylan Dogg, per i dieci anni di Dylan Dogg, quindi nel 1996 e già allora era a colori, con questa colorazione molto pop che io adoro, che se non avete nella vostra libreria, vi auguro di trovarlo in qualunque mercatino, di recuperarlo, o in alternativa potete comprare il wedding box di Dylan Dogg, che era uscito con tutte le variant del numero 399, dove già allora Dylan, cioè dove già allora, dove anche in quell'occasione Dylan si sposava, ma si sposava a Groucho per motivi apocalittici, qua invece si sposa proprio per amore, per amore di una delle sue ragazze, delle sue donne più storiche, credo la mia preferita tra gli amori di Dylan Dogg, che è Lily Connelly. Qua nel 300, scusate, nel wedding box che contiene il 399, c'è una ricolorazione con uno stile un po' più retro, una carta un po' più retro, che a me non piace tantissimo, c'è stata giusto in una live una disquisizione tra me e Kuro, del canale di Kuro, sul fatto che lui invece preferirebbe una colorazione di questo tipo, quindi gli ho consigliato il wedding box, che trovate qua sotto in descrizione appunto, così vi aiuto a recuperarlo. Come ho detto, questo è uno dei miei numeri a mani basse preferiti, perché insieme al numero 200, che io considero forse un unico grosso numero, insieme al numero 200, narra le vere origini di Dylan Dogg, le origini più urban di Dylan Dogg, ovvero non le origini mistiche, che abbiamo visto nel numero 100, ma le origini della sua vita pre-indagatore dell'incubo, quindi scopriamo cosa gli è successo per diventare l'indagatore dell'incubo. Qua vediamo che era un poliziotto di Scotland Yard, un agente semplice, che nel periodo della guerra dell'Ira fondamentalmente, della fazione terroristica cattolica irlandese, in cui c'è stata una moderna guerra di religione tra l'Irlanda cattolica e l'Inghilterra protestante, e l'Irlanda del Nord ovviamente voleva l'indipendenza dall'Inghilterra, e in tutto questo c'erano di mezzo atti terroristici, atti bombaroli, di cui purtroppo Lily Connelly si macchierà in questo numero. Quindi la religione, ma più che la religione, anche questa appartenenza, questa fazione terroristica, separerà l'amore tra Dylan e Lily Connelly. Lily Connelly è la mia... Dog Girl, no, Dog Girl è bruttissimo, Dylan Girl preferita, volevo fare un gioco tipo Bond Girl, ma suona male con Dylan, è la mia Dylan Girl preferita perché tra le Dylan Girl più rinomate io ci metto appunto quella del numero 74, che però è un amore adolescenziale, cioè Dylan aveva 15 anni, quindi ce la metto ma non ce la metto, poi c'è Morgana che io non ce la vedo assolutamente perché poi si scoprirà essere la madre di Dylan Dog, quindi io non ci posso mettere Morgana. Abbiamo Bree Daniels, che è stata molto sentita in un paio di numeri di Dylan Dog, anche lì forse in quell'occasione rischiava di convolare a nozze Dylan Dog, però a me non è mai stata molto simpatica. Diciamo che un po' tutte le donne di Dylan Dog sono state caratterizzate da Tiziano Sclavi in un modo molto fastidioso al mio gusto personale, cioè con dei modi di parlare, anche proprio delle catchphrase che a me davano molto fastidio, oltre al fatto che suonavano alle mie orecchie come una caratterizzazione un po' stupida. Non mi sembravano delle donne particolarmente intelligenti e non credo assolutamente fosse questo l'intento di Tiziano, ma così mi sono risultate. Quindi tra tutte comunque Lily Connelly è quella che mando giù un po' di più. Diciamo che non amavo il Dylan di Bree Daniels, non amavo il Cipicchia di Morgana. Ovviamente nel numero 74, scusate non ricordo il nome della ragazza adesso al volo, ma lì invece il numero mi è piaciuto tantissimo, c'era il senti niente della ragazza. Qui invece abbiamo Lily Connelly che riempie di insulti inventati, assolutamente assurdi, Dylan Dogg. Ecco, anche questa caratterizzazione non mi piace molto, ma diciamo nella narrazione di Dylan è quella che reputo l'amore più importante di Dylan Dogg. Forse perché la vedo infilata in un momento storico, proprio della storia di Dylan Dogg, che segna una pietra miliare per il nostro protagonista, segna anche un punto di cambiamento per il nostro protagonista. Quindi questa donna che lo aiuta a evolversi, a diventare quello che poi sarà il nostro Dylan Dogg. Un numero del 1996 che non le manda certo a dire, che è molto diretto su quello di cui vuole parlare, su quanto siano assurde le guerre di religione, qualunque guerra di religione che sia, qualunque guerra ovviamente, qualunque atto terroristico non possa giustificare assolutamente gli ideali. C'è anche questa litigata tra Dylan e Lillie, in cui Dylan dice, per me morire per un ideale è assurdo. Poi sappiamo che Dylan è un po' qualunquista, cioè non riesce a schierarsi contro nessuna bandiera, ma con il suo non schierarsi contro nessuna bandiera, in realtà è sempre pronto a difendere gli indifesi, gli emarginati, i freaks. Mentre Lillie invece si sente un po' offesa da questo Dylan così bandieruola, apparentemente bandieruola, perché lei invece è molto radicata, è molto idealista per i suoi ideali. Però vediamo come questo numero ci insegni come sia assolutamente ingiusto, assolutamente privo di significato, morire per un ideale. Non ha assolutamente senso. Ci metto io la mia frase da boomer, scusate, secondo me è molto più giusto vivere per un ideale che non morire per un ideale. Tanto meno, figuriamoci, uccidere per un ideale. Ecco, il Dylan del 121 rispetto magari al Dylan di oggi non le manda a dire in modo così diretto. Cerca di tenere sempre un piede in due scarpe, due piedi in una scarpa. Come era detto non lo so chi se ne fotte, comunque l'avete capito il significato. Non è mai esplicito come lo era allora. Forse perché i lettori assidui di Dylan Dogg degli anni 90, non so per quale motivo, adesso sono magari i peggiori detrattori di un Dylan Dogg troppo politico. Questa cosa io francamente non la capisco perché l'ho già detto nella mia recensione del numero 400, Dylan Dogg non è mai cambiato. Sono cambiati forse i gusti politici dei lettori, non lo so. Fatto sta che il Dylan di oggi ha perso un po' questo mordente, mordente anche per questa cosa, perché questo Dylan davvero era un pugno diretto nello stomaco. Ovviamente è un numero flashback, ma che è in un certo senso incorniciato dai dialoghi tra Dylan e Lily già in prigione in cui ricordano questi eventi. In questa cornice dove Dylan è in prigione insieme a Lily a passare l'ultima sua notte prima della condanna a morte, Dylan vede questo velliero, questo velliero che abbiamo scoperto essere il velliero che lo ha portato durante l'infanzia, lo ha accompagnato per poi diciamo diventare il simbolo, uno dei simboli di Dylan Dogg è il velliero modellino che costruisce e ricostruisce sempre perché si rompe qua, simboleggia un po' anche la memoria di Dylan che non sempre è coerente, a volte si ricorda tutto della sua giovinezza, della sua infanzia, a volte ha dei buchi di memoria. Questo un po' anche per giustificare che non sempre lui cita il suo passato negli altri numeri. Perché? Perché questo è un Dylan ancora in costruzione, in realtà questo numero non credo fosse presente nella Bibbia di Dylan Dogg. La Bibbia di Dylan Dogg è stata costruita mano a mano con questi numeri storici. E quindi c'è questa metafora del velliero che si smonta e si rimonta ed è un po' la memoria, la storia di Dylan Dogg che non sempre coincide. Il numero disegnato da Bruno Brindisi che è il primo disegnatore di Dylan Dogg con cui io ho avuto a che fare perché il mio primo numero è stato il 51, il male, sempre disegnato da Brindisi, ci mostra una Lily Connelly bellissima ma, ripeto, è un albo molto crudo. Vediamo Lily Connelly sbattuta in galera, sbattuta nel blocco H, torturata. La vediamo visibilmente dimagrita, deperita alla fine dell'albo e il tratto di Bruno Brindisi che tocca anche il deperimento fisico di questo personaggio è davvero ineccepibile. Mi è piaciuto come ha trattato l'argomento anche a livello grafico. E, dulcis in fundo, l'albo tocca anche uno dei tanti argomenti sulla storia, sul passato di Dylan, ovvero il suo alcolismo, sul fatto che Dylan toccasse, non toccasse l'alcol, non si capiva molto. Qua vediamo che in questo flashback, che in questo suo passato lui non beveva, ma nel senso che era un astemio, ma non con un passato d'alcolista. Qua vediamo che non beve, ma inizia un po' a sorseggiare la birra rossa di Lily e continuerà a bere la birra rossa di Lily proprio per ricordarsi di Lily, proprio per ricordarsi di una ragazza che non c'è più perché appunto è stata condannata a morte. Vediamo alla fine di questo albo di come questo sorseggiare la birra diventi un vero e proprio problema, di alcolismo dovuto anche a quello che ha passato in questo numero. Questo problema di alcolismo verrà poi affrontato al meglio nel numero 200, dove Dylan invece risalirà la china grazie all'ispettore Bloch, suo padre putativo, padre adottivo, ora anche padre adottivo a tutti gli effetti dopo il soft reboot, e da Graucio, questo stramboide, che qua incontra già in un breve lasso di tempo, lo incontra per pochi secondi e come agente di polizia, per un soffio evita di sbatterlo dentro, per, diciamo, disturbo? Disturbo alla quiete pubblica? Non lo so. Mancanza di rispetto di pubblico ufficiale? Non lo so, però fatto sta che hanno un momento Dylan e Graucio anche in questo numero, che poi verrà sancito sempre in quello che io reputo a tutti gli effetti il sequel di questo 121, che è il numero 200. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, per la durata di tutti questi retro Dylan dell'anno 2021, vi ricordo che nel 2022 i miei retro Dylan cambieranno leggermente, ovvero io approfitterò di tutta l'edizione a colori che mi è stata regalata dal mio amico e collega Andrea, per leggere quei numeri, quei vecchi numeri di Dylan Dog che io non ho mai letto, quindi il retro Dylan del 2022 saranno storie che io per primo, che io leggerò per la prima volta e quindi vi farò una recensione a tutti gli effetti a caldo di questi retro Dylan, non sarà una rilettura per me. Ecco, se volete, magari farò eccezione fatta magari per il numero 200 in modo che continuerò questa recensione che inizia col 121 e continuerà con il numero 200. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, arrivederci al prossimo anno, vi auguro buon anno nuovo, buon 2022, incrociamo le dita, ma qua mi sa che butta male, e tra pochissimo, più o meno quando ci sarà il discorso presidenziale del Presidente della Repubblica, uscirà anche un mio video di ringraziamento di tutte le persone con cui ho collaborato nel 2021, se così, se vi va, non perdetevelo. Arrivederci di nuovo e grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.